Furti continui anche in pieno giorno al progetto Casa di Sant'Antonio, preso di mira dai ladri ormai da mesi. La denuncia è dei residenti di uno dei quartieri provvisori post-sisma tra i più centrali e popolosi della città, dove vivono molte persone anziane oppure con problemi di salute o con disabilità. Risalgono a pochi giorni fa gli ultimi tentativi di furto, come quello a danno dell'abitazione di Abedulla Salii. I ladri hanno cercato di entrare in casa sua a ora di pranzo direttamente dalla porta. I residenti sono preoccupati e intimoriti e chiedono l'aiuto delle forze di polizia e una loro maggiore presenza. Un sistema di video sorveglianza potrebbe invece fare da deterrente contro i ladri, riconsegnando un po' di tranquillità al quartiere. Problemi che sono condivisi anche con i quartieri di Pagani, Cabazzano e Coppito. Qui al piano terra vediamo che ci sono delle tapparelle abbassate perché gli anziani hanno paura e vivono praticamente rinchiusi dentro. Sì, la paura ci sta. Poi sono dei complessi che comunque fanno dei rumori per naturalità della struttura, però essendoci dietro dei furti la paura ci sta sempre, la tranquillità non c'è. Quindi ci sta molta preoccupazione. Ma non solo in questo complesso, purtroppo siamo in contatto con amici, parenti, anche di altre strutture presenti nelle zone limitrofe e i furti vanno avanti di continuo. Che cosa hanno portato via negli ultimi periodi? Che cosa è successo? Da quello che abbiamo sentito, collane, orologi, qualcuno probabilmente anche quel piccolo poco di denaro che aveva lasciato da qualche parte in qualche cassetto. Quello che però rimane molto è la paura. Immondizia lasciata nei cassonetti, erba che cresce sui balconi e sui passaggi pedonali di ingresso agli alloggi e poi incurie sporcizie ovunque, persino negli spazi pubblici in cui giocano i bambini, mattonelle di velte pericolose soprattutto per gli anziani, garage, bui e per questo facilmente presi di mira dai vandali. Questo intanto lo stato d'abbandono in cui si trova il quartiere del progetto case di Sant'Antonio. Grazie.